Non è bene che l'uomo sia solo curare il malato curando le relazioni. Papa Francesco ci indica la via verso la giornata mondiale del malato. Fu istituita da Papa Giovanni Paolo II nel 1992 nella memoria della Beata Vergine Maria di Lourdes e ricorre l'11 febbraio. Un appuntamento importante che vivranno parrocchie e diocesi di tutta Italia e della Sicilia per ricordare coloro che soffrono e coloro che assistono quotidianamente gli ammalati. Per esempio la diocesi di Acirreale propone un momento di preghiera per celebrare la vita e sottolineare l'importanza dell'assistenza ai malati mercoledì nella chiesa madre di Giarre. Poi il vescovo Antonino Raspanti presiderà la Santa Messa nel corso della quale sarà somministrata l'unzione degli infermi a seguire la processione. Questa giornata ha lo scopo di sensibilizzare tutti, in modo particolare i giovani, verso il problema della sofferenza, della malattia e comunicare gioia e speranza. È un momento di ringraziamento per tutti coloro che assistono i sofferenti, gli ammalati, per i medici che operano in ospedale, per gli operatori sanitari, perché loro veramente sono le persone che aiutano, sono l'occhio visibile di Dio. Grazie.